Vittoria esterna per il PC Torsapienza nella ventesima giornata del campionato regionale Elite Under 15, girone A. La squadra di Volpe espugna il campo dell'Ottavia con un netto 4-0. Gli ospiti passano in vantaggio in avvio di gara. La punizione dal limite di Giordani, deviata dalla barriera, finisce in rete. Cinque minuti più tardi arriva il raddoppio ospite. Giordani lascia partire un diagonale rasoterra che non lascia scampo a Galli. Al ventiquattresimo si fanno vedere i locali con questa punizione di Rovecchio. Sulla respinta corta di Lamarra, Bucari non riesce a deviare in rete. La ripresa si apre come il primo tempo. Giordani sfonda in aria e prova la conclusione. Sulla respinta di Galli si avventa Papa, che sigla il 3-0. Al trentaquattresimo ci prova Cucca dal limite dell'aria. Il suo sinistro a giro però viene deviato in angolo da Galli. L'assedio gialloverde si trasforma nel quarto gol al trentaquattresimo, quando Zeghiri, con un tocco sotto, mette Giordani davanti la porta. Il 10 attaccante ospite, controlla e spiazza Galli con un bel diagonale rasoterra. Buona la prima quindi per Mr. Volpe sulla panchina del PC Torsapienza. I gialloverdi agganciano proprio l'Ottavia a quota 23 punti in classifica. I ragazzi Lorenzetti non sono mai stati in partita e hanno continuamente subito l'iniziativa avversaria per tutto il match. I ragazzi Lorenzetti non sono mai stati in partita. I ragazzi Lorenzetti non sono mai stati in partita. Grazie a tutti.